Amiche ed amici, ben ritrovati. Oggi con noi a Raccontami una storia, una fantastica coppia di attori. Con noi Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ernesto, tu arrivi al mondo del teatro attraverso la scuola di recitazione di uno dei, anzi, possiamo dire il più grande in assoluto, Gigi Proietti. Ma diciamo che l'ultimo dei grandi, perché insomma Proietti è stato un grande come tanti altri, sono stati Gasman, Sordi, Manfredi. E poi trovarcelo lì a impartire sicuramente lezioni di grande levatura, sicuramente mi sento sì un privilegiato. Sotto questo punto di vista ancora tengo dentro di me tanti ricordi. Un privilegio assolutamente meritato, dato che c'erano, ci saranno ancora dei provini molto selettivi per entrare nella sua scuola. Ah sì, all'epoca le scuole erano veramente entrare come in qualsiasi, c'è anche l'accademia, come anche quella, c'era la famosa bottega di Gasman, c'era il teatro scuola di Streler a Milano. Mi ricordo negli anni 80, 90, per entrare in queste scuole, devo dire che... Si sudava, si sudava. Ora bene o male l'accademia è diventata una branca anche universitaria, insomma, un ramo universitario. Cioè ci sono altri filtri che, attenzione, non sono così agevoli, bisogna sempre avere delle qualità. Però sì, all'epoca era veramente un bel traguardo. Tra l'altro, Gigi Proietti ti vorrà in seguito con sé in diverse sue opere. Sì, finché sono stato a Roma e anche oltre ho potuto veramente assaporare non soltanto i suoi insegnamenti da maestro, ma anche da regista, da attore. Sei nato a Palermo, qui sei cresciuto, qui hai deciso di ritornare, che rapporto hai con questa città? A volte Palermo ti tratta male e noi quando siamo trattati male, chissà perché ci avviciniamo sempre di più, perché siamo noi che trattiamo male Palermo, però quindi automaticamente, insomma, poi Palermo ti tratta male. Allora direi in un termine un pochettino eccessivo, è una città un po' puttana, ecco. Però per certi versi non ce l'ho fatta e allora sono rimasto legato a questa città. È un amante che non riesci a lasciare. Perché io poi a tratti la odio pure, c'è questo odio e amore nei confronti di questa città, però credo che fondamentalmente la scuola di Proietti è ok, però sicuramente la mia tipologia, il mio teatro, il mio cabaret, i miei monologhi raccolgono tantissimo da questa città dove c'è tantissimo da raccogliere. Clelia, tu hai invece una formazione drammatica, quindi il teatro della prosa, è un po' un eclettismo artistico il tuo, no? Questo passaggio alla comicità, ma probabilmente anche il teatro della ricerca, cioè è il vero teatro della ricerca? Ma guarda, l'eclettismo è alla base, intanto a me piacciono tantissimo le sfide. Sì, io nasco dal teatro drammatico, dalla scuola dello stabile di Palermo, dove lì ho avuto un modo veramente di lavorare anche con grandi nomi del teatro, del cinema e del teatro, da Gianna Giacchetti, Aurelio Pierucci, Salvatore Solida, poi io, figurati, parlavi di teatro di ricerca, io ho fatto anche teatro di ricerca, sia mio con testi miei scritti, che anche con altri attori, ho lavorato anche con gli allievi di Giulian Beck e Giulietta Di Malina, quindi Living Theater, e poi sono approdata un mondo che effettivamente non conoscevo molto, che era il mondo del cabaret, però, attenzione, in realtà non mi sono più spostato tanto. Ho visto che hai fatto tutte queste... No, sto spiegando. Sì, no, se vuoi lo chiamano per tutti... Poco fa lui parlava, io l'ho interrotto. No, no, no. Poi dicono che siamo le donne che interrompiamo. No, capito? Poi dicono che siamo le donne. Lei è insegnante, non vorrei dire... Fatti l'allobbacchetto. Io non mi permetto di contraddirla. Sì, da quell'intellettualismo, in certe volte dice, cabaret, cabaret... C'è, è allucinante. No, non lo so, non lo so. Deve parlare sempre... Dicono che siamo le donne che parliamo tanto, e invece... Allora mi fa finire? Teatro di ricerca, dai. Teatro di ricerca. Ecco, si ha detto Albertazzi una volta. Sì, sospendete le ricerche. Esatto. Pensa, d'Albertazzi e Ernesto Maria Ponte. Esatto. Stavo arrivando dicendo che in realtà, sì, eclettismo, ma non ce l'entendiamo. Cioè, il cabaret è anzi una delle forme più complete ed eclettiche di teatro. Parallela vogliamo. Assolutamente sì, vabbè, il cabaret nasce come un'arte completa. Cioè, l'attore di cabaret deve saper recitare, cantare, ballare, suonare. Poi noi abbiamo deciso di fare una coppia, che è una coppia un po' particolare. Soprattutto i primi spettacoli che facevamo, ora già la gente ci conosce come coppia. Questo amore è nato su un set che poi è diventato... Siamo appena convolati a nozze, quindi... Si dice che questo amore sia nato nel 2017 sul set, è vero? Sì, su un set che... Quindi nel 2017. Vabbè, lascia per, ho fatto il battutone. Sì, ormai ci sono abituata, è un continuo. Sì, era un medio metraggio che abbiamo fatto insieme, eravamo i coprotagonisti, ed è lì... E com'è scoccata questa scintilla? Lui ci ha provato spudoratamente. Però mi ha visto, ha avuto un colpo di fulmine, si è innamorato perdutamente e lì non mi ha più mollato. Mi ha detto che se le cose non mi cadono dal cielo, non mi piglio. Ora vuole dire che gli sono caduta dal cielo, capito? Sì, poi è caduta dal cielo, ma voglio dire, alla fine una cosa tira l'altra e alla fine ci siamo tirati. Quindi anche lì la magia del teatro, no? Poi abbiamo iniziato uno spettacolo teatrale qui all'Agricantus, siamo all'Agricantus in questo momento, ci stiamo trovando, questo è l'Agricantus Open. Sì, li ringraziamo per averci ospitato. Lo spettacolo teatrale è stato sicuramente... Siccome lui ci provava, mi ha coinvolto in questo spettacolo, capito? Allora, te deve dire queste cose che ci provo, capisci? Sì, romantiche, ci provavo... Ecco, diciamo che è scoccata una scintilla e sbampammo, cioè capisci? È vero, sono onesta. Lì è nato un feeling artistico e dopo da lì si è sviluppato altro. Però inizialmente, devo dire, ci siamo trovati molto bene a fare coppie insieme, sempre con questo gioco. Cioè, di me che venivo da un altro mondo artistico, l'abbiamo unito. E poi attenzione, alla scuola di proiettisi si studiava anche il teatro drammatico. Cioè, il teatro comico non è che lo studi, il teatro comico lo approfondisci. Cioè, la base è il teatro. Sì, di teatro comici. La base è il teatro, quindi comunque... Un po' come un concetto musicale, un po' anche come la danza. Io credo che fondamentalmente si comincia sempre dalla danza classica per poi finire all'hip hop o a qualsiasi altra, al funky o a qualsiasi altra stessa cosa per la musica. Per il ballo. Si comincia dalla musica classica. La breakdance. No, sta niente, sta cercando di tenere alto il tono, diciamo, umoristico. Mi sfida. Ma io ho studiato tanto, io ho studiato tanto. Volevo arrivare a questo. Alla scuola di proiettisi. Non ero... No, ma dico, atteggiare. Adesso non studiavamo per fare, per essere sicuramente bolle, ma il Papolona spuntava un usciso. Cioè, non è che... Vabbè, come tutte le scuole di recitazioni c'è sempre il corso. Da premettere che il mio fisico era, a parte che ero più giovane, era anche un fisico più adeguato a un'ipotesi, diciamo così, danzereccia. Tra l'altro hai avuto anche un passaggio importante in tv, ai tuoi esordi, in un programma che è rimasto nel cuore dei siciliani, che era insieme. Ah, è stato un passaggio abbastanza importante, nel senso che veramente io devo dire che quella è stata una trasmissione, che ha segnato un'epoca televisiva regionale, dove comunque chi ne faceva parte aveva anche, diciamo, un'entità, erano anche entità, diciamo, nazionali. Devo dire che Salvo la Rosa, perché mi va di citare il nome di Salvo la Rosa, insieme a Antenna Sicilia, anche se siamo in un'altra emittente, però hanno saputo costruire veramente un periodo d'oro per noi attori. E chi passava da lì era un po' il Costanzo Show degli anni 90, che ti dava sicuramente una grande visibilità. E quindi la televisione sappiamo tutti, il cinema, il teatro, insomma, sappiamo che il web sta diventando, sta cominciando a predominare. Anche se poi alla fine, boh, magari, come direbbe lei, che direbbe Gian Battista Vico, i corsi e ricorsi storici poi hanno un po', sai, quella cosa che potrebbe tutto, potrebbe scemare, poi si potrebbe di nuovo... Bravo, bravo. Rivolgo una domanda ad entrambi, proprio perché... Allora, risponde lei per me. Che c'entra? Secondo voi, nascere in Sicilia è stato penalizzante dal punto di vista delle opportunità? Cioè, mancano delle, come dire, delle realtà concrete, come penso il laboratorio Zelig di Milano, che è polarizzante un po' per la comicità? Inizio io? Sì. Anche perché le nostre risposte sono inevitabilmente diverse, nel senso che apparteniamo a due generazioni artistiche completamente diverse. Ad esempio, in Sicilia, per esempio, fare teatro tra gli anni 80 e gli anni 90 era, da un certo punto di vista, molto più semplice. C'era meno concorrenza rispetto a quella che posso avere vissuto io, già tra... Io sono entrata alla Scuola del Biondo nel 2003, quindi già parliamo fine anni 90 e primi anni 2000, dove già era satura Palermo, come anche Roma, Milano, Genova, i poli, quelli di attrattiva teatrali. Quindi la mia risposta probabilmente può essere diversa rispetto alla sua, perché ti posso dire... Io amo ferocemente la mia terra, ferocemente, però sicuramente è un limite. Poi anche io sono andata fuori a Roma, campando con le lezioni private di latino e greco, mi andavo a pagare i workshop, i stagio. Ma tanta gavetta in giro per l'Italia. Sì, la mia generazione, posso dirlo e sono sicura che tutti confermerebbero, ha avuto molte più difficoltà. E anche la nostra sicilianità non ci ha aiutato tantissimo. Ma non è il nascere e vivere in questa terra, sono le condizioni, secondo me, neanche geopolitiche, sono le condizioni politiche. Noi siamo un pochettino abbandonati, lo dico senza tono, senza vittimismo. Il successo di certe emittenti private, eccetera, sono stata l'assenza di quello che potevano essere dei centri di produzione. Tu fai un centro di produzione a Torino, fai un centro di produzione a Milano, lo fai a Roma. Penso che sarebbe stato più logico, parlo di almeno 20-30 anni fa, farlo a Palermo. Io ho preso parte a una fiction che si chiamava Agrodolce, che andava su Rai 3 e che voleva essere, credo ormai siano passati più di 10 anni, voleva essere una sorta di un posto al sole siciliana, ma è volata nel nulla, come tutte le nostre cose. Ma tuttora vedi un programma, che ne so, su Rai e si parla dei progetti teatrali che succedono a Roma, a Milano. Cioè qui abbiamo avuto, non soltanto io ma come tante altre persone, abbiamo avuto veramente momenti artistici. Io posso citare uno spettacolo che ho fatto qui all'Agricantus con Sergio Vespertino, che per 7 anni è stato campione di incassi, se questa cosa qui l'avessimo fatta a Milano, probabilmente se ne parlava a Roma, se ne parlava a livello nazionale, qui non è arrivata neanche l'informazione, non è arrivata neanche a Caltanissetta. Siccome sono discorsi che possiamo poi ampliare da un punto di vista politico, poi è dire che la nostra politica prevalentemente è una politica fatta da persone native di questa terra, ma sappiamo perfettamente che alla fine il nostro bacino politico serve soltanto a prendere e poi a scaricare. Questo lo dico con molta tranquillità, perché tono polemico, assolutamente con tono polemico, grande tono polemico. Mi permetto di aggiungere però una cosa, i giovani artisti siciliani hanno una grande fortuna, quella di avere Ernesto Maria Ponte e Talent Scout, perché hai scoperto tantissimi artisti siciliani, penso a Andrea Vitrano, Dalila Pace, i Sanzoni, chissà quanti altri. Claudio, se mi dici giustamente, a questo punto lo cito pure. No, vabbè, io questo per carità, abbiamo sempre qui all'Agricantus, abbiamo fatto dei corsi di recitazione, io ho soltanto impartito delle lezioni, poi loro hanno fatto il resto, in tutte le cose così. Mi piace pensare che tante persone, mi sono trovato più di una volta, anche Roberto Lipari ad aprire degli spettacoli, a farmi delle aperture, mi trovavo, posso dire con molta tranquillità, che finivo gli spettacoli qui sotto, al teatro Agricantus, c'era sempre un certo Angelo Duro che rimaneva a vedersi lo spettacolo. No, ma io credo che fondamentalmente, siccome ho i miei 54 anni, vado per i 55 e la barba è quella che mi piace, poter pensare che possa essere stato almeno negli anni 90-2000 un punto di riferimento per molti giovani. Non c'è una scuola di teatro comico, l'ho detto poco fa, c'è una scuola di teatro all'interno della quale poi ci sono delle caratteristiche che ognuno può anche avere personalmente, delle caratteristiche che poi si fanno. Io, parliamoci chiaro, se non avessi studiato teatro non avrei potuto fare il comico perché è da lì che attingo. Mi concedo una piccola battuta, visto che mi trovo con due grandissimi attori comici, me ne concedo una anch'io allora, ma cosa si prova a godere dell'unico ponte rimasto integro in Sicilia? E gli altri, effetti, allora, finché dura è fortuna, cioè, no, poverino, no, lui almeno resiste, lui resiste. Il microfono. Eh no, scusa, qua, tu stavo toccando, cioè, non vuoi essere toccato. No, no, il microfono. Vedi, è un ponte però che deve essere toccato così, con i guanti. Sì, almeno, effetti detto, questa è una bella battuta, questa mi piace. Lui ancora resiste come ponte? No, vabbè, io... E poi l'abbiamo detto prima, è il sosia più bello di Russell Crowe. Sì, come no, no. C'è stato un periodo in cui pensavo pure di somigliare a Brad Pitt, quindi lì e lì ho detto, mi sa che c'è qualcosa che non va. Sul ponte io mi tengo in piedi fino a quando non mi rompono il pilone, quindi questo è fondamentale. Sul Russell Crowe... Piloni sono fragili, eh, lo ricordiamo. Lo dice, sta attento a non rompermi il pilone. Russell Crowe, faccio una battuta che, insomma, ho fatto anche sui social, a proposito di Russell Crowe, è arrivato a Palermo, e ho detto, beh, insomma, io anni fa avrei fatto di tutto per assomigliare a lui, alla fine è stato lui che ha assomigliato a me. E, insomma, se avessi saputo che lo sforzo era minimo, mi sarei anche impegnato a me. Poi, sul fatto che c'è stato un momento della mia infanzia, diciamo così giovanile, quando c'era un certo Brad Pitt che usciva con Seven, che era... Allora qualcuno mi scambiò per... Potrei dare un pochino ragione? No, non voglio prenderle in questa politica. Attenzione, ma soltanto perché la faccia era un po' il look che... Ma anche perché io, l'altezza non avrei potuto fare... I colori... Veramente, ma come lei, lei... Io sono uguale a Nicole Kidman. Sì, Jennifer Lopez, ma guarda, i colori... Jennifer Lopez! C'è la stessa fortuna di Jennifer Lopez. No, anzi, no, no, sono identica a McGryan. McGryan? Sì, sono la sosa di McGryan. Ma McGryan è che è nago, cioè... Va bene, no, questa non... Taglia, taglia. Ernesto, è vero che durante la partecipazione ad un programma in prima serata nazionale ti si è esibito, hai fatto talmente ridere che il regista ti ha detto guarda, fermati qui perché hai fatto fin troppo ridere e rischi di oscurare altri. Allora, la racconto meglio perché il passaggio è importante. Feci un provino per un programma nazionale che avrebbe dovuto, negli anni 90, avrebbe dovuto lanciare un presentatore, un comico nazionale. Io ho presi parte a questo programma che tra l'altro è in diretta, quindi abbiamo fatto le prove, siamo stati lì tre giorni, ho conosciuto questi grandi artisti, questo grande presentatore ormai storico e la serata è andata benissimo. Io feci uno dei miei monologhi, dei miei cavalli di battaglia, che è un monologo sull'aereo. Il pubblico era venuto dalle terre provenienti, di provenienza dell'attore comico importante, poi diventò importante perché all'epoca non era ancora così importante. Eravamo in diretta, io feci la mia esibizione, la gente si è divertita tantissimo e io mi sono sentito, come si dice a Palermo, miso. E domani pensavo di andare a firmare il contratto per le altre puntate, invece mi hanno fatto trovare il biglietto di ritorno. Quando andai dal regista, grosso regista di grande, in levatura, aveva fatto tantissimi programmi in Rai, purtroppo non c'è più. storico, quando andai da lui a chiedere, ma come a me mi hanno dato il biglietto, è dire che ieri la gente ha riso. Lui mi ha risposto, mi sa che hai fatto ride pure troppo. Allora è vero. È vero, sì, è vero. La confermo, è andata così. Attenzione, l'artista può anche essere valido, come questi artisti che comunque hanno una grande, hanno tuttora, hanno avuto una grande valenza a livello nazionale. Però, bravo o non bravo, grande o non grande, che tu possa essere, devi avere dietro un'agenzia e dietro l'agenzia ci deve essere anche un meccanismo politico importante che ti possa sostenere e da lì farti diventare. Non c'è mai soltanto tanta fortuna dietro queste storie. Quando lo star system poi è diventato interessante da parte di tante cose, di tante macchine, eccetera eccetera, poi si è entrato in un altro meccanismo. Il cinema è così, il cinema ormai funziona attraverso le produzioni, i casting e le agenzie. Io per esempio in un'agenzia, motivo per cui ultimamente mi si vede poco al cinema. E' uno dei motivi per cui noi magari vediamo in una serie tv, vediamo sempre gli stessi. Io ripeto, ho fatto Agrodolce, pensa, quando mi feci Agrodolce, ero una nuova agenzia, dopo un anno di Agrodolce, ero uno del cast dei protagonisti, mi chiamarono tutte le agenzie, è possibile e immaginabile, ne scelsi una che quando chiusero Agrodolce poi mi ha mollato. Però attenzione, lui non ha agenzia per scelta, non è stato rifiutato dall'agenzia. Non è stato rifiutato dall'agenzia, vuoi che? Dopo tu hai chiesto? Io ho chiesto, sono anni che cerco di fare richieste, mando mail, chiedo, sono un attore palermitano, siccome le agenzie prevalentemente, ma non mi hanno mai, posso dire cagato. Possiamo dire anche per assurdo che hai fatto una carriera straordinaria senza doverti, diciamo, affiliare sull'agenzia? Guarda, Salvatore, io me la sono sempre cantata e me la sono sempre suonata. Posso dire con molta tranquillità che non devo niente a nessuno, sono entrato in una scuola di recitazione senza dovere niente a nessuno o posso dire che devo tantissimo a un proiettimo, giusto perché mi sono trovato nella sua scuola e ho imparato e quindi mi sono trovato anche a dover condividere il palco scenico, sono stato alla sua spalla al teatro Smeraldo, al glorioso teatro Smeraldo nel 2000 in un suo spettacolo proprio per un recital. E' un po' una medaglia d'oro al valore nel mondo della pubblicità. Certo. No, vi dico, va bene, sto bene così. Una cosa è importante per me, sempre, avere la platea, quello è importante. Tantissimo teatro, tanto cinema, c'è un ruolo che ti è rimasto particolarmente nel cuore? Un personaggio, ma guarda, mi ero molto affezionato al personaggio di Agrodolce, era un personaggio particolare di quella serie, quindi chi l'ha vista e chi se lo ricorda lo può anche, è un personaggio che aveva dei problemi suoi, aveva delle piccole, come si dice? Era autistico, non era autistico? No, no, politicamente corretto, come? Avete, è indica... Disturbi, sì, no, è indica, può ancora non puoi dire. No, è politicamente scorretto, è indica, può non puoi dire. Va bene, politicamente, aveva delle politiche scorrette, e quindi detto questo, insomma, era un personaggio che, diciamo, da macchina da presa, era quello che io ricordo e che io ancora rimpiango un pochettino. Sì, intendevo anche come spettacolo tuo personale. Spettacoli ai quali sono più legato, sicuramente al buio, Ponte Mista Stretto, e poi se devo fare una classifica, devo dire, amori e guardati. Infatti hai detto, almeno uno fatto con me, non lo stava mettendo. Guarda, vedi, 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 vedi che sta facendo, non è che mi fa parlare, dire, no, ho fatto una sequenza, ho fatto una sequenza. Devo dire, a verità, mi piace molto il titolo, perché amori e guardati, è proprio bello come titolo. Ma i tuoi titoli sono tutti un gioco di parole, bellissima questa... Sì, è uno studio che facciamo con Salvorinaudo, quando dobbiamo intitolare qualcosa, cerchiamo di giocare... Concentrate molto sulla semantica. Cerco anche di sfruttare, il Ponte Mista Stretto, cerco di sfruttare anche questo, diciamo, sostantivo che mi porto come cognome. Hai avuto anche il tempo di scrivere un libro per bambini? Ma non è che è proprio un libro per bambini, non è neanche un libro, è una favola, una fiabba, che ho scritto con Salvorinaudo, perché ho pensato di fare un gioco con degli elementi, essendo uno che ama cucinare, quindi mi do, oltre al teatro, mi do tantissimo alla gastronomia, alla cucina, mi piace anche mangiare. Metti le mani in pasta? Metto le mani in pasta. Metto le mani in pasta. Devo dire che così, pensando a due caratteristiche, due pietanze, insomma, come li possiamo definire? Pietanze, sono pietanze. Insomma, il cecio e la patata, quindi ho pensato di raccontare la storia di un cecio e di una patata che si incontrano in un orto e si innamorano, vengono raccolti, separati, divisi e dopo tante e tante vicissitudini si ritrovano di nuovo abbracciati una cazzilla e una panella dentro un panino. Roma e Giulietta siciliano. E muoiono così. Culinaria, Roma e Giulietta culinaria. Una mia idea che poi abbiamo elaborato con Salvo Rinaudo e che è diventato un librettino anche con dei fumetti di Sergio Algozzino, che è un fumettista. e devo dire che poi alla fine l'abbiamo anche venduto, abbiamo fatto... Siamo pure andati, grazie a questo libro, con Salvo, questo libro siamo andati all'Expo di Milano in una serata dedicata allo street football ermitano, nello specifico alla panella e alla croquette, alla Gazzillo. A te la cucina piace così tanto che hai ideato un format improntato sulla cucina. Diciamo che la cucina devo dire che è stato Salvo La Rosa che mi ha chiamato e mi ha detto senti, visto che ti piace cucinare ci giochiamo con questa cosa qui. E perché no? Allora abbiamo fatto di che pasta sei e abbiamo fatto la prima edizione, potrebbe succedere che ci sia una seconda edizione. Anche perché lei mi ha insegnato parecchio a cucinare. Sì, sì, lei è una bevissima... Io faccio degli ottimi toast. Strepitosi. Dopo una carriera così ricca, c'è ancora un sogno da realizzare chiuso nel cassetto? Il cassetto dei sogni non si svuota mai, quindi secondo me tanta roba. Io credo che ancora un po' di cose le potrei ancora fare e spero di avere il modo e la maniera per farle. Poi i desideri i desideri poi diventano quelli personali, diciamo. Sono sposato, quindi una donna come la cucco. cosa c'è? Beh, questa è proprio un lucano. E allora, visto che parliamo di sogni, il 24 giugno del 2023 siete convolati a nozze su una scogliera bellissima nella perla del volfo a Terrasini. Che dà sul golfo di Castellammare, se non mi sbaglio. Sì, sì, sì. Meraviglioso. Visto che ce l'avete concesso facciamo vedere qualche immagine agli amici da casa. Con piacere. Siamo qui circondati dai nostri affetti più sinceri. Siamo qui insieme alle nostre meravigliose famiglie diventate un'unica grande, bellissima e anche un po' folle famiglia. Siamo qui davanti a tutti voi cari amici che avete condiviso e condividete la nostra storia. Siamo qui anche se qualcuno è assente qualcuno che avremmo voluto desiderare avere accanto ma che per certo sta condividendo nel nostro cuore la nostra gioia la zia Betta ma soprattutto la tua mamma. Ma io lo so che mamma Olga in questo momento avrà di certo organizzato una mega tavolata cuscusiata spaghettata e si starà commuovendo con noi per finire poi cantando e ballando scatenata. perché lei è con noi prometto che sarai l'unico uomo che desidero sposare prometto di innamorarmi di te ogni giorno. in mezzo a stupelli ci voglio andare come a fuori vari e in mezzo a stupelli ci voglio volare con batti corali e se tu la mia forte mi fece sentire per realo io faccio l'inchino contento ringrazio lo blocchio di mano e mi lo compito e mi lo compito e mi lo tengo io bravo è stata una favola veramente bellissima stupenda è un po' un ranocchio che sposa la principale che però nel frattempo era già sul pisello cioè nel senso che Clelia in un'intervista ha dichiarato ognuno ha la sua forma di amore la mia è lui cosa rispondi? ho avuto soltanto fortuna nell'essere più di forma di Russell Crow avanzato in stato di decomposizione in stato di decomposizione adesso parte lo scherzo ho trovato in Clelia veramente una un ancora poi avete una complicità un ancora sentimentalmente personalmente lavorativamente avevo bisogno avevo questa esigenza e devo dire la verità che per me è stato importante adesso lo dico con molt'altro mi fa commuovere è tenero alla fine poi in fondo si smungi per bene no io sono un sentimentalista nella vita privata divento ma vedi è un po' così il teatro poi ti camuffa tante cose un po' come le mie piccole parolacette che dico in scena e poi quando scendo mi vergogno pure di averle dette però in scena le devo dire perché io faccio un altro concetto della volgarità che quelle parolacce servono solo a identificare un rapporto molto più amichevole col pubblico purtroppo appena tornati dalla luna di miele siete finiti sotto un ponte tranquillizzo gli amici da casa nessuna sciagura semplicemente è il titolo del vostro nuovo spettacolo sì è uno spettacolo che già abbiamo messo in scena questo inverno ha avuto un grandissimo successo sempre sold out siamo felicissimi sempre qui al teatro Agricantus che è sempre stata alla sua casa e ormai mi ha adottato uno spettacolo molto particolare che ora stiamo replicando appunto qui nell'aria piedonale nell'aria estiva è uno spettacolo delicato e coraggioso anzi lo definirei coraggioso perché lui insieme al suo coautore Salvo Salvo Rinaudo hanno scritto un testo che tratta tante tematiche oggi non scottanti bollenti però giustrate con grande intelligenza perché essendo in due in scena perché è uno spettacolo realmente a due su ogni argomento ci sono sempre due tesi quindi sai per evitare di offendere la sensibilità di qualcuno che ogni tanto finge pure avere questa sensibilità quindi si tocca alla tematica religiosa alle famiglie arcobaleno al problema dei nuovi barboni che non si possono chiamare barboni tant'è che per gran parte dello spettacolo si prende anche molto in giro il politicamente scorretto che ormai oggi viviamo in un mondo dove la politica ci ha obbligato a questo politicamente scorretto e per chi fa questo mestiere che sale sul palco ogni giorno è un calvario perché devi stare attento a qualunque cosa dici c'è sempre un po' la paura di sconfinare nel cadere nel politicamente scorretto sai devi avere il coraggio di farlo o anche di saperlo fare infatti di saperlo fare con una nota questo spettacolo lo facciamo di buono c'è che se io sono scorretto lei mi corregge quindi crea un equilibrio crea sempre questo equilibrio però che ti porta alla riflessione d'altronde io faccio la parte di un barbone che è disfiziato ora vita e quindi il personaggio è un personaggio incattivito dalla società da quello che lo circonda e quindi uno incattivito deve parlare con molta cattiveria e giustamente lei che è un assistente sociale lo riporta sulla retta vita però con un finale a sorpresa però con un finale a sorpresa e non diciamo è uno spettacolo assolutamente da vedere che consigliamo a tutti sì adesso dico stiamo finendo le repliche all'agricantus ma sicuramente in inverno girerà saremo a Catania al Teatro Musco insomma faremo dei teatri siciliani lo porteremo un po' in via Palermo l'abbiamo un po' spremuto basterà seguire i vostri social comunque per rinnovare a giornate sulle date assolutamente siamo arrivati alla domanda conclusiva con mio enorme dispiacere perché è stata una puntata davvero molto divertente grazie quindi vi chiedo se vi dicessi rivediamoci qui fra i dieci anni esatti dove vi vedreste per allora? tosta come domanda anche perché dicevi si vive alla giornata tra dieci anni tra dieci anni spero di non dover camminare con lui col bastoncino ma non lui io non lui io il pilone rimanga integro il pilone deve rimanere integro ecco sì tra dieci anni mi voglio rivedere anche qui all'agricantus con un nuovo spettacolo e col bel pubblico che devo dire che ci segue sempre e che noi ringraziamo sempre ecco sì tra dieci anni mi vorrei vedere così sì no vabbè io figurati come faccio a dire che magari tra dieci anni mi vorrei vedere con un'altra attrice in un altro teatro non lo potrei mai fare vabbè anche io mi vorrei vedere col vero Russell Crowe però bisogna essere un po' volare basso concordo io devo dire la verità che Clelia per me lavorativamente siccome il lavoro diventa e poi questo lavoro da questo lavoro difficilmente riesce a staccarti è impossibile Clelia è un'ottima compagna di viaggio io mantengo sempre comunque anche in alcuni momenti il mio monologhismo perché vedo che il pubblico comunque questa cosa l'ha sposata anni e anni fa e diventa però devo dire che grazie a Clelia ho trovato anche un meccanismo di complicità in scena nel teatro a due non solo anche nel teatro perché a Giolli abbiamo fatto che mi ha completato che mi ha completato e che mi ha stimolato fondamentalmente e questo stimolo sicuramente non sarà mai più accantonato e quindi sì mi piacerebbe trovarmi ancora qui a parlare di teatro e di un teatro divertente magari anche perché no fra dieci anni forse cominciamo a diventare più maturi magari potremmo pure parlare di un teatro un pochettino più impegnato quello non mi dispiacerebbe è un ritorno alle origini perché anch'io ho fatto qualcosa di impegnato non di ricerca che già l'avano sospese le ricerche ma di impegnato bene la nostra puntata è finita io ringrazio Clelia Cucco ed Ernesto Maria Ponte per avermi permesso di raccontare la loro storia ringrazio gli amici da casa per averci seguiti e vi do appuntamento alla prossima puntata di raccontami una storia ciao